Serviva uno scossone all'Amena Scuola Baschettarezzo e la società del presidente Mauro Castelli prova a darlo. La sgonfitta della squadra anche contro l'Audax Carrara, andata in scena al Palaestra domenica scorsa, accosta la panchina a coach Giuseppe Delia. Nel corso di un vertice per fare il punto della situazione, la società ha ritenuto di dover cambiare rotta, confermando comunque Delia alla guida delle formazioni giovanili Under 18 Gold e Under 16 Eccellenza che stanno lottando nelle posizioni di vertice dei rispettivi campionati. Per il momento la squadra viene affidata al suo vice Mirko Pasquinuzzi, in attesa di individuare la giusta figura per ricoprire il ruolo di nuovo coach dell'Amen Sba. Gli arrivi di Kirlis e Dolfi e le importanti conferme avevano posto sulla squadra notevoli ambizioni per il salto di categoria. Tutto ancora ampiamente rimediabile, ma l'attuale non ha posizione in classifica con 10 punti, frutto di 5 vittorie e 5 sconfitte, sicuramente rappresenta un andamento non consono per le attese iniziali e quindi la decisione societaria di dare una scossa alla squadra, sperando che il cambio tecnico possa centrare questo obiettivo.